Buongiorno, siamo qui per il prossimo aggiornamento siamo finalmente giunti nella fantastica e ridente località di Castel di Tora e stiamo per dare inizio al conclave d'inverno eh sì, al conclave Moriano ecco alle mie spalle veder passare alcuni strani individui che costellano questa location ecco qui, altra gente che passa e così adesso vi porterò in giro per queste bellissime quattro mura di Castel di Tora